Le aspettative si tradiscono o si disattengono o si mantengono alla fine dei giochi, ma mi sembra improprio quando uno è appena all'inizio già determinare il successo di una determinata operazione. Io su questo non la penso nello stesso vostro modo, quindi mi sembra che finché in ogni torneo non sono passate un certo numero di giornate non si può capire e decidere effettivamente se è un campionato più forte, se è un campionato meno forte, se la forza della Juventus e dell'Inter è una forza duratura o momentanea, se la forza del Napoli è una forza ancora latente che deve manifestarsi in tutta la sua, auguriamoci, prorompenza. Quindi voglio dire che secondo me fare oggi dei bilanci è assolutamente improprio, da non chiedere e irrazionale. Secondo me ci sono nel calcio delle estemporanee valutazioni che si prendono non a caldo e non a freddo e molto spesso dice dell'Aurentis è impietro, dell'Aurentis è arrabbiato, dell'Aurentis ha neagito, dell'Aurentis ha colpito, no, dell'Aurentis valuta e agisce.